Ci sfideremo tutti qui a Termini Sventato inizialmente Amarigliano Poi c'è ancora il Fravì Che questa volta non sbaglia con Jolly Molto più semplice qui Pallone che è arrivato frappini del numero 9 Che non sbaglia e segna il primo gol Per i ragazzi di Amelie Fanno 1-0 per il Fravì Se ne è Fagotti che è stato lasciato solo Viene coppito però recuperato Ma riesce lui a tenere palla Ancora Fagotti Va a servire Amarigliano Bellissimo schema del Dream Team Che mette tutto in parità Siamo 1-1 Cagnoli Se saltare gli avversari va in mezzo La scala Mette giù il pallone Tira La scala In Garelli In qualche modo riesce a tenere la fanda Si gira e lascia partire il tiro Insidioso Galletti in qualche modo Come Grasselli Un team che va di nuovo all'attacco Amarigliano carica il tiro Lo lascia partire O Giacobini reattivo E così Con questo calcio di munizione Sfilano i primi 25 minuti di questa partita Siamo ancora 1-1 Tutto si deciderà nel secondo tempo In realtà anche nelle occasioni Mettopani Aumentato un po' Un palo di mano Poi Mettopani si distrae Per il Fravi Allora porti sul Marigliano Che si gira elegantemente Va al tiro Non finisce di molto fuori Un palo di mano Attenzione Mingarelli Che cosa trova Mingarelli Non si era neanche coordinato benissimo Trova comunque il gol del 2-2 Che riposta tutto in parità Vediamo se Giustamente Da non portiere Ma proprio lui ha il tiro Tra l'altro Madonati Che tira Un discreto missile Ma Attenzione che dall'altra parte C'è Giogli Che alza Un campanile In qualche modo Fagotti che non può prenderla con le mani Mettendo il portiere Lo comunque di testa Bella parata Attenzione Giogli E qui Donati è tornato a fare il portiere Pescare Giogli Deve girarsi Ci riesce In qualche modo Fa partire il tiro Farci il pallone Attenzione però dall'altra parte Matteo Grasselli Donati si allunga E poi Che cosa Si è divorato il Fravi Qui Mai verso la fine Attenzione però qui Al Ligorio Può far partire il tiro Donati Ha un portiere Quanto meno Il portiere Stolare Cagnoli Che si Centra Votto Occasione qui Per il Dream Team Non c'è più tempo Per cercare di conquistare i tre punti Questa partita Fra Dream Team E Fravi Finisce in parità Finisce 2 a 2